Mario Peluzzo cerca nuove amicizie eccolo qua Mario Peluzzo questo primo piano è dedicato all'amico Mario Peluzzo eccolo qua Mario Peluzzo è diventato il numero uno sostituisce Palacana visto che Palacana non si ci vuole mettere più sono cazzi sua Palacana ecco qua mo facciamo tutto Natale Natale Salvatore Stefano Luciano Iacovatta Nazareno Bonelli eccolo qua l'amico mio e non ci sta più nessuno e poi ci sto pure io tu che cibi a Ulissi che corna tisi e non c'è più sto Palacana come ingia è o è NUDO non dico i siciliani NUDO prima di ci mettere su Facebook ma non ci si più sto messaggio ci manda all'altro amico mio a Brigandone Catania Palacana non c'è più nessuno ciao Tony ma questo qua su internet questo è Palacana si gira di spalle vedete Palacana si gira di spalle Palacana c'è le palle ciao ciao fai vedere se palle si sono seccati mettili sotto a giro se palle ciao ok buonasera a tutti e al prossimo giro e al prossimo giro e al prossimo giro